Ciao, ti sei mai trovato nella situazione in cui le bacchette che usi per suonare non vanno bene? Senti che c'è qualcosa che non va? Resta con me perché ti farò vedere alcuni trucchi che ho sviluppato io negli anni per arrivare a scegliere il modello giusto per me. Ciao, sono Ruggero Pazzagli, fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente e oggi vi voglio farti vedere con questo video un procedimento che io ho usato negli anni per arrivare ad avere la mia bacchetta ideale perché ormai te ne sarai accorto avere in mano la tua bacchetta ideale non è così semplice come sembra. Riuscire a scovare il modello giusto che abbia il peso giusto, la punta giusta, il grip giusto non è così facile vista l'ampissima varietà di scelta che abbiamo e il fatto di non avere all'inizio magari le idee chiare. Infatti è proprio questo quello che voglio consigliarti, devi aver pazienza anche perché man mano che vai avanti con la tua carriera di batterista svilupperai sempre maggiore tecnica, ti troverai in situazioni diverse e ti troverai ad usare delle bacchette che magari con il tempo non soddisfano più la tua mano, il tuo tocco, senti che non suonano bene magari sui piatti se stai suonando jazz, senti che non hanno una buona pacca su rullate se stai suonando pop o rock, senti che il bilanciamento se suoni delle cose tipo fusion così veloci non è corretto e ti impedisce di fare i tuoi leaks alla velocità che vorresti. appunto per questo io ho cambiato nell'arco dei miei 30 anni di carriera da batterista iniziato ovviamente come studente e poi da semi pro e pro ho cambiato un'infinità di modelli di bacchette, marche, pesi, diametri, punte, ne ho combinate di tutti i colori come tutti noi del resto perché all'inizio soprattutto cerchiamo. Ok? Allora ti faccio vedere alcune cose che magari potrebbero esserti utili per aiutarti a scegliere la tua bacchetta. Alcune cose di cui tenere conto importantissime e sono partendo dalla parte alta della bacchetta la forma della punta che determina il suono sul ride soprattutto e sul charleston mi raccomando non sembra potrebbe essere un particolare trascurabile ma non lo è invece è fondamentale questa questa parte della bacchetta cambia completamente il suono dei tuoi piatti. Poi c'è il peso della bacchetta cioè capire se il peso è quello giusto per te se è troppo pesante se è troppo leggera. Poi c'è il grip ti sarà anche capitato di notare che mentre suoni la tua presa scivola verso il basso. Ok? Questo potrebbe essere determinato da due fattori. Uno non hai ancora un buon grip sul tuo fulcro e questo può capitare soprattutto a chi ha ancora gli inizi ma un altro motivo potrebbe essere che inconsapevolmente tu hai un buon fulcro ma la bacchetta scivola perché il tipo di legno la finitura di legno non fa presa sulla tua pelle e questo è un problema che io ho avuto e ho realizzato di avere a metà fase di crescita. Io di solito usavo le normalissime Wigford 5A o 5B dipendeva dai periodi se ero più o meno allenato ma il mio problema era che la bacchetta mi scappava e quindi che succedeva? Succedeva che io avevo sempre un eccessivo affaticamento di questo muscolo. Ok? Perché? Perché per non far scappare la bacchetta dovevo stringere eccessivamente e quindi mi creava rigidità anche nei movimenti. Poi un giorno per caso ho scoperto probabilmente provandole per sbaglio le bacchette della Regal Tip che sono come vedi lucide cioè sono laccate si dice laccate hanno un procedimento di laccatura vengono messe a bagno dentro questa vernice trasparente e questa vernice trasparente magicamente si appiccica alle mie mani. Cioè la bacchetta mi si appiccica alla mia pelle sarà una questione di acidità o di scarsità di sudorazione a me le mani praticamente non sudano mai quando suono. Per cui ci sarà insomma qualcosa di chimico che fa sì che questa laccatura mi faccia rimanere la bacchetta appiccicata alla pelle per cui ho risolto il problema non avevo più questo affaticamento del muscolo e non dovevo più stringere troppo quando suonavo e questo ha migliorato tantissimo la mia efficienza tecnica. L'unico problema delle Regal Tip era che facevano queste punte di plastica che saltavano via. Questa punta appunto sui piatti ha a mio giudizio un suono terribile terribile molto plasticoso il suono il piatto diventa nasale non mi piaceva. Poi dopo un certo punto hanno cominciato a fare le bacchette con la punta di legno vedi ancora laccata guarda come bella lucida laccata quindi bel grip sulla mia pelle ma la forma della punta anche se il legno dava un suono sul piatto che a me non piaceva. Però le Regal Tip rispetto alle Wickford avevano un bilanciamento diverso cioè la Wickford probabilmente non so forse una questione di costruzione qua disegno della spalla della bacchetta questa zona si chiama la spalla ok punta spalla corpo e coda è una bacchetta che è molto bilanciata indietro cioè tende a tornare indietro con molta facilità perché il peso evidentemente è più spostato indietro rispetto a una normale Wickford che aveva un bilanciamento diverso più verso la punta e a me per esempio questa è una cosa che piaceva molto questi sono test che tu devi fare prendendo marche diverse magari rimane 5a ok questa è una 5a prendi una 5a della Wickford, una 5a della Regal, una 5a della Water, una 5a della Mr. Drum, una 5a della marca che vuoi tu provale vedi se il bilanciamento ti trovi bene ok questa per me scappa molto ok mi torna indietro con eccessiva facilità mentre questa che poi ti farò vedere ha un bilanciamento diverso ok già per esempio confrontando le bacchette vedi subito questa è una 5b questa è una 5a ma vedi che la spalla è diversa ok quindi sono magari questioni di grammi è però il peso è più spostato in avanti ok poi nel tempo ho trovato siccome la Regal era sparita dal mercato italiano avevo trovato un'azienda che purtroppo anche lei è sparita che si chiamava Roll che mi faceva queste splendide bacchette verdi già autografate già un modello autografato e me le laccava mi ha fatto fare tutti gli esperimenti di quantità di laccatura fino a che non abbiamo trovato la laccatura giusta e avevano un grip pazzesco mi piacevano tantissimo e il peso anche era molto importante perché quando tu ti rivolgi a un'azienda locale come può essere un'azienda italiana come nel caso di mister drama che è italiana o ce ne sono altre italiane puoi dirgli che peso vuoi mentre le Vic Fert non lo sai nemmeno che peso hanno non c'è scritto credo per cui quando vai in negozio devi sentirlo tu se il peso è quello che vuoi tu e magari non trovi paia dello stesso peso invece rivolgendoti a un artigiano gli dice io voglio le 5b da 60 grammi e lui te le fa tutte da 60 grammi arriviamo a questa bacchetta che sto usando adesso questa bacchetta che sto usando adesso che di questa azienda italiana che si chiama mister drama ed è personalizzata per me ok è una 5b sui 58 grammi credo e ha un rivestimento con una cera invece che la laccatura per avere questa sensazione come simile a quella della laccatura cioè l'antiscivolo ok questo grip appiccicoso che a me serve per non stringere troppo non è detto che tu debba per forza avere una bacchetta laccata o cerata oppure come fanno alcuni che ci mettono quella sorta di nastro antiscivolo della vic first forse fa modello già preconfezionato quindi questa bacchetta qui ha la forma di punta che piace a me che suona bene sul su ride quindi posso suonare anche jazz con la stessa bacchetta in pratica io la stessa bacchetta la uso per qualsiasi cosa io suoni se suono jazz se suono funk rock sono sempre con questa 5b esiste anche un modello 5a questa non è colorata bianca vedi a color legno ma anche questa è ben cerata ok vedi che la punta è diversa è un po più corta e la punta è più piccola ok può andar bene anche questa per suonare jazz cosa un po più leggere però non non mi trovo bene con l'impugnatura ok ti spiego perché perché per allenarmi io uso delle bacchette da marching band ho cominciato ad usare queste vic first gigantesche che sono il modello ralph ardison qualcosa del genere ma poi ho scoperto che mister drama faceva questo modello che si chiama napoleon ok che è simile alla vic first ok è una bacchetta da marching band l'ho fatta solamente alleggerire un po perché quelle da marching band reali sono molto pesanti e il rischio è di non ottenere il risultato che si vuole con una bacchetta troppo pesante cioè si parla di molti grammi di differenza una 5b con il fatto che essendo un artigiano io posso dirgli guarda mi piace il modello napoleon ma il peso che fai tu è eccessivo per me e per i miei studenti fammela che ne so 10 grammi più leggera e lui me l'ha gentilmente fatto un'altra cosa importante di cui ti devi accertare è il tipo di legno con cui è costruita la bacchetta di solito si costruiscono le bacchette in icori o in acero in maple ok la bacchetta in icori è quella più dura quindi anche più resistente e può avere un peso maggiore anche su diametri più piccoli e mentre le bacchette in maple in acero è un legno evidentemente più poroso con una densità più bassa e quindi puoi avere una bacchetta con diametro maggiore con un peso minore attenzione però che se suoni forte si spaccano facilmente per cui se sei uno che picchia duro ti consiglio di stare su un legno duro come licori se invece suoni jazz dove quindi non hai bisogno di potenza usi poco il charlie di taglio che è il punto questo dove si spaccano più facilmente oltre che questo dove colpisci il rim shot e magari puoi stare sul sul maple per avere un grip e una presa migliore con un diametro più grande ma il peso della bacchetta non è eccessivo e ovviamente testa il suono sul piatto in quel caso ok adesso a questo punto arriviamo alla fase finale dove ti spiegherò come si accoppiano le bacchette ok allora la prima cosa da fare è farle ruzzolare diciamo così su un piano ok su un tavolo per vedere se la bacchetta è dritta perché se la bacchetta non è dritta ondeggerà ecco vedi questa ondeggia guarda la punta vedi se la bacchetta ondeggia vuol dire che la bacchetta è storta e non va bene da buttare la seconda prova da fare è l'accoppiamento per cui ti prendi diverse paia dello stesso modello e provi l'accoppiamento facendo questo lavoro lanci la bacchetta per me che sono destro che ho a sinistra contro la bacchetta che ho a destra e gli fai qui a metà e la colpisci a metà e gli fai fare un suono senti che nota emette quella giri ai 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 sentito vuol dire che queste due assieme non possono stare ok a quel punto ne scarti altre ne scarti altre e vedi queste quasi una questa è un'intonazione un po più bassa rispetto a questa e magari cominci a catalogare quelle intonate acute quelle intonate basse ok senti queste sono molto basse però questa potrebbe essere no queste troppo acuta no sono simili sono simili molto vicine quasi 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 ecco esatto queste due sono mecciate si dice mecciate cioè sono pagliate a questo punto mi prendo la mia bella incartatina le accoppio e magari con con la penna ci scrivo ok vuol dire che questo paio è a posto bene per questo video è tutto fammi sapere nei commenti se anche tu adotti questo sistema per almeno mecciare le paia mi raccomando iscriviti al canale youtube se non l'hai già fatto o metti un like sulla pagina facebook se stai guardando questo video su facebook ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao